Domenica 3 novembre torna sulle coline di Firenze I Love Running, la corsa camminata non competitiva di solidarietà organizzata dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, l'infomi e il mieloma, per sostenere un progetto specifico. Quest'anno, il quinto, i proventi della manifestazione saranno destinati alla ristrutturazione delle due case di accoglienza dell'AIL per i pazienti e per i loro familiari. Noi con AIL abbiamo una lunga collaborazione, è una delle ricchezze del nostro sistema. AIL, come tante altre associazioni, aiuta e sostiene e si pone in modo complementare rispetto ai servizi che noi offriamo. Quel tipo di patologie richiede centri altamente specializzati, come a Firenze sono l'azienda Careggi e il Maier. E naturalmente qui vengono persone da molte parti della nostra regione che trovano in questo modo non solo delle cure adeguate, ma trovano anche un luogo dove abitare, dove essere ospitati in modo gratuito. Testimonial dell'edizione 2019 di I Love Running è il calciatore Manuel Pasqual. La regione toscana è una delle regioni dove sarà sperimentata la terapia CAR-T contro le leucemie. La regione toscana è una delle regioni dove sarà sperimentata la terapia CAR-T contro le leucemie. Il calciatore è il calciatore che si pone in modo gratuito. Il calciatore è il calciatore che sarà sperimentata la terapia CAR-T contro le leucemie. Grazie a tutti